Fisica politistica, el'ergosto fit, filosofia sofistica, sì, motivazione fitness. Le spese a fine mese, parlare con i meggi, la samba non è cheggio, non fede, non partese. E' un uomo che pure suona lutto, me ne vede la parla, mi canti, si tuffo. Si stanno a mangiare, chiamate come che stai, lavoro tutto il giorno artesanese. La variosa versione su YouTube, provite con calese, per come la rai, può fungere, teme, chiamate come che mi sa, questo sangue d'argoniano. Mi sono solato sul divano, che si dice il tempo, volendo a diman. Io sono il mio maragano, mi sono l'agno di un suo mar, mi è scrivente al tritato, San Francesco, un regno. La variosa versione su YouTube, provite con calese, un proxenso di te, ma un vero più oltre, mi è scrivente al tritato, 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 mi è scrivente al tritato. Ma che futuro, nel futuro, a me, per un po' tradizzo, un po' da una santa frase, c'è un po' di un mistero, mi è scrivente al tritato. Grazie. 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 Grazie.